buongiorno amici natura e funghi oggi fa geta insieme all'amico valerio e abbiamo avuto la fortuna di una bella fungaia adesso ve li facciamo vedere questo è il primo il secondo eccolo qua belli freschi freschi poi un bel nero anche se mangiato ma sempre bellissimi e adesso i boccioletti qui uno qui anche se siamo arrivati tardi un altro nero boccioletto ecco un altro un altro ancora 2 purtroppo questo ha ciaccato dalle mucche poi più avanti adesso ecco l'altro un altro nero bello e l'ultimo ancora in alto eccolo qui un altro splendido bocciolo nero un saluto da roberto e valerio arrivederci a tutti ecco un saluto ecco un saluto ecco un saluto Grazie.